Ciao Lisa, che fai? Ti preoccupi dei tuoi stinchi? Ai miei tempi le ragazze si preoccupavano delle tette. Papi, sto andando a giocare a calcio. Me ne sono innamorata quando vi sto sognando Beckham. Papà, io sono fiera del mio retaggio culturale. Mamma, anche il calcio! Urrà! Sì, segnalo, Jasmine! Ti proibisco di sognare Beckham. Prima devi sposare questo perfetto sconosciuto. Suo padre è un mio importante conoscente d'affari. L'amore non conta nulla! Che lo dica, signor Danabai! I contatti di affari sono più importanti di amore! Aspetta, ma è questo il calcio? Io l'ho sempre chiamato bigliardino umano. Vuoi che ti accompagni alla tua partita? Avevi già promesso di accompagnarmi, sì. Oh, ma devo proprio! Prendi! Ok, morti, glielo dico. Signorine, scusate, non abbiamo l'arbitro. La partita è stata annullata. Mi dispiace, so che siete molto deluse. Che è successo all'arbitro? Ha smesso! Fare l'arbitro è un lavoro ingrato. I genitori ti odiano. L'unico vantaggio è che i bambini condividono la merenda con te. Qualcuno ha parlato di merenda? Lo faccio io l'arbitro. Yeah! Ma dove l'hai trovata quella divisa? Sono stato licenziato da Foot Locker. Che ti prende bello? La bandiera americana non ti va bene? E allora adio! Ehi, quello era mio padre! Adesso sono io tuo padre. Sono libero, sono libero! Go! Sono tanto stanco! Qualcuno mi può portare un altro cono per vomitare? Insomma, mi era sembrato che fosse andato da paura, finché non ho mangiato il fischietto. Ma se non conoscevi neanche le regole, questa è la mia nuova passione e tu la fai diventare una buffonata! Una buffonata divertente! Purtroppo no, sono delusa per il tuo comportamento di oggi! Ma non mi stupisce! Dai, passa! Forza! Mano! Polizione! Pa, sono stupefatta! Sei diventato molto più bravo come arbitro! Grazie, tesoro! Dopo quello che mi hai detto, ho guardato ore, ore e minuti e secondi di calcio! Ho quasi visto un gol! Ma c'erano tante di quelle pubblicità di cellulari spagnoli! Coraggio, tesoro! Salva il nostro matrimonio traballante! È un fallo sulla trequartia! È assurdo! Tua figlia è inciampata perché è impedita con i piedi! Avanti, Lisa! Ammettilo! Sono una spettatrice che parla a una giocatrice! Rispondimi! Ho detto che è un fallo sulla trequarti! Sei così cieco che neanche Gesù potrebbe guarirti! Helen, fammi santo piacere! Non buttare la bomba a G! E allora vi butto fuori tutti e due dalla partita! Mi ha fatto lo sgambetto! Fallo sull'altra bambina! Lisa ottiene un rigore e tutte le altre bambine devono pagarla un dollaro! Ma è una cosa inaudita! È tutto il giorno che tua figlia cade! Non è vero! Tua figlia gioca sporco! Signore, io sono padre di un tontolomeo, di un rimbambito, di un come si chiama, di un bambino cane e di un attrezzo con la faccia umana e il corpo da pesce che chiamiamo Kevin! Ma i miei figli non giocano sporco, questo no! Eviterei una ramanzina fatta da uno zoticone! Da uno zoticone, se se permetti, signore! È una ramanzina da parte mia, che ne pensi? Ronaldo, vincitore di due coppe del mondo, di tre premi, giocatore dell'anno della FIFA! Esattamente, sono quello che hai detto! Ora vado in giro per il mondo denunciando i cosiddetti tuffatori! E tua figlia è tuffatrice! E adesso Ronaldo va... Hai sentito, Geraldo! Allora, cosa vuoi fare? Cartellino giallo! Non puoi darmi il cartellino giallo! Sei mio padre! Quando metto questi pantaloncini non sono più tuo padre! E a giudicare da quanto sono stretti non lo sarò più per nessun altro! Ecco cosa penso del tuo cartellino giallo! Condotta poco sportiva, cartellino rosso! Sei espulsa! Fuori! Ma... ma... Un'altra famiglia distrutta da Ronaldo! Sì!